C'è, non... vabbè E... eh, seggioani top, io ho messo arbor, managgia me Contro seggioani, allora in realtà la goccia ci farebbe comodo, però non voglio prenderla subito Andiamo così Prendo lo first item e la goccia mi sembra un po' una pattumiera, ragazzi Non avevi messo HP? Add armor HP ho messo Vabbè, dai, del resto tutti i campioni devono autoattaccare Allora, io non ho mai giocato a Kayn, quindi penso che giocare lo top con l'art stile sia un ottimo battesimo del fuoco E fa ridere che consigli questo oggetto Noi andremo con... eccolo qua Art still Effettivamente potrò prendere la goccia first item così mi risparmio un po' di soldi Eh, sti cazzi No, lo so che Kayn non è molto... non è molto difficile da giocare Però va giocato e quindi lo giochiamo Attenzione Io penso stratterò di Q Ha senso? Assolutamente sì Vabbè Non ho bisogno di leggere le spell perché vabbè sono semplicissime di base Grasp, molto bene Grasp, molto bene Ottimo Niente, abbiamo già un terzo della barra, buono Vieni qua Uh No È vero che si ferma quando fa la W È la forma blu che... che non lo ferma Grosso rischio questo per me Guarda, non esistono le collisioni per me Che bello Che bello Bec Ok, siamo già a metà della barra, molto bene È sicuro che mi serva... sì, dai, mi serve la goccia, mi serve Vai, vai, trapassiamo il muro Wow, guardate che bel mondo che c'è qua dietro Gli alberi Basta Finito Ma che lo è, ragazzi? È Iron Che domande sono In base a cosa diventa il blu-rosso In base ai campioni che combatti Se combatti contro i militi dal rosso Stack del rosso Contro le energy da stack del blu Sì Grazie, fragola Grazie a avermi insegnato Come stompare i nemici Avete visto? Facile con Kane Dammi, dammi, dammi le stack Molto bene Adesso farego la tua copia la build Farebbe solo bene Vieni qua Graspettino, molto bene Cosa? Cosa? Ma... Pezzo di merda Ok, ok Siamo quasi alla forma Attenzione Mi facciamo paura Incredibile Spaventatissimo Poi non so quanti punti ti dà Cioè, io so che combattento guadagni Però non so Non saprei dire quanto Ma sì, è una Mumu, ragazzi Sarà il classico Mumu bot C'ha il grasp Gornettino No, è la Mumu bot, ragazzi È la Mumu bot Molto bene Attenzione Bot e più bot Bot e più bot Ottimo Grazie che invasili Per i 13 mesi Bentornato Bentornato È preoccupante Perché 7 in teoria Non è un bot Vieni qua La Z challenge Più bella di sempre Ok Strunz Riot fa molto piacere Che il suo gioco Sia pieno di bot Oh, attenzione Paura, paura Mica Con Game Top Può fare un sacco di Un sacco di proxy Effettivamente Ora che ci penso Mamma mia Riot Games È il suo gioco Pieno di bot Abbiamo quasi la forma Fragola raggiunge la forma Così velocemente Eh Eeeh Facile ragazzi Come fragola Ecco qua Tuk Vabbè Voi dite sì Solo perché Siete i suoi fans Guarda qua Combattiamo Combattiamo Purtroppo non ho danni Quindi ultare Non avrebbe senso Ce l'ho Ce l'ho Non capisco Se manca pochissimo Oppure ce l'ho No Fai vedere che conoscete Tutti i cane Come le vostre tasche Mi chiedo il perché Dammi un po' di forma Per favore Ok 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 grazie Ok Forma ce l'abbiamo Amumu vai a fare il campo Non ti preoccupare Non ti do più fastidio adesso Amumu vai a fare il campo Ho detto Molto bene Molto bene Allora quanto mi manca Settecento La forma Ma è vero che si prende Ah non si prende Deve per forza prenderla Qua posso? No qua non posso Ma quanto distante devo essere? In fontana? No qua Ok Prima dell'inibitor Va bene E non lo sapevo Va bene Qua Oh Ma è il mio red buff questo? È il mio red buff ragazzi Mi pare di sì E per caso A fregola mi ha detto Tu quando trovi qualcosa Da farmare Farmalo Mi pare che funzioni così Quindi Esatto Sì Esatto Allora Io ho visto che Lei da lui lo pingano sempre Quindi penso sia Una cosa buona Giusto? Non sono le farm Ok Però ok Ti ho detto Che cazzo vuoi? Ti ho detto Va bene Cioè Ma non è che devi fare Devi fare un'inchiesta Dio buono Cioè Why do you take red You are in jungle No? Ah ok Idiot Io passo eh Se non c'è nessun problema Fragola mi ha detto Che è normale Che qualcuno se la prenda Ma devo stare tranquillo Perché si gioca così Il campione Perché se Giovanni Mi stai seguendo Vabbè Ma tipo L'ignite non lo usa? Vabbè Tuck Molto bene C'è la playstation Webcam Merda È caduto tutto 18 mesi Adesso io vado a rubare Novo la giungla Giusto giusto Poi tassiamo anche Le altre lane Aspetta Aspetta Ah però Questo è un barbiere Quasi migliore di Nasus Ragazzi sapete Ecco ho usato L'ignite Ragazzi Abboni che qua Mi killa Via Perché sono uscito Subito Vabbè Se Giovanni Dai devo andare Back Perché Palle Se Giovanni Devo andare Back Ok Reabot Attenzione Assolta tipo Che non c'ho Di farmi Tutta la strada E niente Scappo Dai Se Giovanni Mi servono le stack Che palle Prima mi inseguivi Mo mi insegui più Guardate quanti danni Che faccio Se Giovanni Ok Grazie gatto Lo so Lo so Via 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 Ah se Giovanni Perché adesso mi combatti Perché vi dico Ho poca vita È così Non combattiamo A darmi pari Se Giovanni Spero non fosse per me Quella ulti Allora Se Giovanni Ma Oh Ma Quanto cazzo è durato Ma poi dove è uscita Questa Affanculo Avevo una gigataglia Ma che cazzo Vabbè A dire Il prossimo oggetto Potrebbe essere Una buona idea Fare questo Perché Ah se Giovanni C'ha tanta vita Quindi direi Che un bel demonic Colpisce nel Segno Sì lo so La visage Sarebbe forte Però Non esageriamo Adesso Guarda lì Quanto Quanto minion Perdo Anche se Se Giovanni Se Giovanni È un signore Quindi decide Di non prendere Giusto Giusto Appinghiamo il drake Ah no Però 40 secondi Al red buff Perché io vorrei rubare Il red buff Però non voglio Non riesco a rubare Davanti alla faccia Frenchy 10-98 Dai è Frenchy Mena Dai è Frenchy Oh cos'è la Controtassa questa È arrivato l'Inps È arrivato l'Irpef Bastardi Sì 16 secondi Ok Pusho sta wave Eh niente Eh niente Presto Presto Il drago Il drago No no Il red buff No 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 Volevo pigare il drago Sbagliato No No Adesso a prenderlo Va bene Contromisura Vado a rubare il blu Vado a rubare il blu Presto Presto E volevo pingare Il È che Ce l'avevo lì Stavo guardando il timer Purtroppo Godrake Keiner Jungle or not Sì 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 Sono Vado 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 subito No Sta arrivando Non faccio danni Sono tank Ti piacerebbe Ok a posto Via via A posto Eh qualcosa Li abbiamo rubato Questo è importante Poi è stata una rubata Anche migliore Perché spammo tanto Ah 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 That kid I rap you No Frenchy Per favore Non so se anche a fragola Fanno così Che comportazione Mai questa Eh il blu Lo lascia Sì ma perché il blu Mi serve Lo sa Ne è consapevole Ok Proviamo anche un po' Ad amumu il bot Se solo avessi lo smite Cazzo Li ruberei tutti Dovremmo farlo Tipo un troll Il troll è E rubare le cose Proprio jungler Ah ma quanti danni che fa Ah grazie Ho sbagliato Ho sbagliato mossa Vabbè Quante robe E mi hanno tirato Dio buono No no Diana Prendo tutto Facile Facile Via Niente Non faccio danno Set Can I take Rap Raptors Raptors Stavolta chiedo Sono gentile Vabbè Chi taccia consente Ragazzi Che vedevo di Io ho anche chiesto Cazzo Vabbè Ovvio che li avrei presi Anche se hai sentito Di no Però almeno Ho dimostrato Di essere gentile Ma io vorrei Prendere un po' Di stack Di heart still Tuck Facile Tanto io Trabassi i muri E' una cazzata Sto gioco Per me Vedi Sì Ok Questo mi serve E questo pure A posto Oh Oh Ma porca Di quella Puttana Vabbè Abbiamo preso Un bel po' Di hp Però 100 hp In più Mannaggina A me Ho misplaiato Dai dantino Torno in cameretta A fare i compiti Se prendo Ah se compra P Mi toglie Perdo a D Cioè ho 100 bonus Invece Sto voi Ho 106 Quindi non compriamolo Sembra meglio Ah sti cazzi Le contro Sono soldi buttati Va bene Oh cosa vedo 30 Allora Con lo scaffo Bisogna In qualche modo E' Bisogna in qualche modo Distrarlo Ragazzi Che vuole da me Questo Oh mannaggia Bisogna rubare Ragazzi Mi sa che questo Viene al redbuff Adesso Zero danni Ok ok Ci metterò Un sacco di tempo Ma Vale la pena Presto 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 Vai Che è il blu Vai 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 No Se ne è accorto Ma è proprio Tiene d'occhio Tutto Beh Adesso Un junkler Che cazzo Dei fare Se non guardare In giro Per la map Omg You are A clown Avevo letto Un'altra cosa Why To stop Esca a French Sarà anche italiano Questo Un clown Yes Esattamente Quello che ho detto Your mother Niente Ha flammato Fragola Ragazzi Cosa vedo a dire Fai il drago E stai zitto Ora sei main cane Sì infatti Mi sento Molto più vicino A fragola In questo momento Cazzo Oh questo mi serve Molto bene Ragazzi ci metto Un po' tanto A killare Mostra giungla Com'è possibile Non capisco Eh perché Non ho ancora La maschera No vedete Che con la maschera Cambia tutto Anzi Pushiamo questa Così se Giovanni Torna top Nel suo habitat Naturale Finché non arriva Io Io prendo Perfetto A scanning AP Ovviamente no Questa è la parte bella Alla fine potrò chiamarlo Kane AP Questo In un certo senso Andato a cercare il bar E ho detto Sì sì è tutto in ordine Ah momo vieni Chi mi serve Uno delle stack Vabbè sti cazzi Eh ma c'ho la torre Preferisco Ma sì ragazzi Il bot Dio bono Lasciatelo lì Posto Via via Ragazzi ma Porca puttana Stai Non si capisce Quando si stacca Vabbè demonica Posto Eh Lo so Lo so Eh lo so Abbiamo 124 AP Con un oggetto Non male Non male Questo è tanto da AP Ora la visage Beh sì ci può stare La visage Così Ci curiamo No quelle cose lì 104 AD Perfetto Eh Non devo stare fuori Mannaggia Ma stiamo perdendo Adesso C'è Boh Vabbè Kane Però è colpa tua C'è Porca puttana C'è So io Kane Effettivamente Però Devo dire 7 Frenchy Ci vado Ci vado ragazzi Ci vado Tranquil E che non ho red buff Quindi non mi sento A mio agio Guardate adesso I danni Cioè Guardate qua Tutto un altro Campione Tutto un altro Campione Ragazzi Guardate il danno Di Burn Guardate 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 che roba Incredibile Mamma mia Ormai proprio Non può più fare niente Contro di me Guardate Guardate che danni Ok Che danni Ragazzi Allora Vedo che c'è il red buff Eh Eh ma rompo De più Uh Ma edizione Potevo insta flashare Forse mi salvavo Perché Gangplank Iron Di carry È strafiddato Ragazzi Con 172 Di farm Vedo se me ne sto In top lane Ah me la consiglia Anche la visage Bene Ne sono contento Infiniti 40% crit No un po' di più Di 40 55% Mi manca così poco La sunfire è un bello oggetto Ma quello è il mio red buff Ecco perché Cazzo Mi sentivo più debole Del solito Ecco cos'è che mi mancava Ragazzi Per essere L'essere completo E senza pingarmi Deve un attimo Accorgersene Ate il danno di burn Incredibile Incredibile Non ha visto Bene bene Devo farmi Fibull Winter Se no Non ho abbastanza mana Questo me ne dà un po' È che se Giovanni Non vuole più divertirsi Con me ragazzi Non so come mai Vabbè Sono che in rosso Mi serve il red buff C'è Proprio così Che funziona League of Legends Ottimi danni I go drake Sembra un'ottima idea A mu me lo lascia Perché lui è gentile Con me Anzi Mu vieni qua Che devo staccare un po' Ok 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 Tuk Perfetto Grazie Via Aiuto Ok Ok Dai lo aiuto Così Prendo di HP Uno Ok Due Ma come è fatto A prenderlo Diana Ma Che è successo Bene Bene Abbiamo fatto Kane Ragazzi Bene Grande French Comunque È stato È stato Tranquillo Non ha assolutamente Flammato Perfetto Ottimo Bel game Ora ti repo Oh no È finito Mi report Niente Sarò Bannato Su Bas Buona